Oggi voglio cominciare a presentarvi Opel, un altro dei marchi che noi trattiamo come Reduzzi Motor, che potete seguire sempre su ReduzziMotor.it. In particolar modo voglio presentarvi un'occasione, una vettura aziendale, una bellissima Opel Mokka chilometri zero, però andiamo a vederla insieme, dai! Ecco qua la nostra chilometri zero. Opel Mokka 1.2 Elegance della fine del 2022. È una macchina che ha su tutto, anche lei, cerchi in lega, vetri oscurati, i fari a led e i fari fendinebbia, i sensori di parcheggio, una macchina contenuta negli spazi, agile, un motore veramente scattante, adatto all'uso cittadino, ma anche ai grandi viaggi, insomma. È una macchina maneggevole, adesso andiamo a vedere all'interno. Grande abitabilità, cambio manuale 6 marce, tutti i comandi al volante, un bellissimo infotainment, 4 vetri elettrici. Come dicevo è praticamente una vettura nuova, non ha mai viaggiato su strada, pronta a consegna. Dietro ho un'ottima abitabilità, omologata a cinque posti, comodissime le due prese usb di su dietro. Vediamo la scoperta del baule, che comunque ha dell'ottimo spazio. Secondo me è un ottimo compromesso per un utilizzo cittadino, per la famiglia. Che linea, eh? Venite a scoprirla insieme a tante altre occasioni nel nostro showroom di Treviglio, in via Bergamo 2, oppure su ReduziMota.it seguitici e contattateci. Scoperta del progetto del progetto del progetto del progetto e contattateci. Grazie a tutti i nostri spettatori per un'ottima abitabilità,